Prendete ciò che vi dico come una farneticazione, la realtà è apparente, è un ologramma, universo è un ologramma e ci sono tutti i bug tipici degli ologrammi, tutte le caratteristiche, anche l'entanglement quantistico dimostra che non esiste probabilmente nemmeno una dimensione spaziale, il tempo come dicono i fisici è solo apparente, si vede solo per gli effetti dell'entropia, quindi la nostra realtà probabilmente è una simulazione in due dimensioni e probabilmente deriva da una realtà vera, ma nessuno sa se la realtà da cui deriva è vera oppure a sua volta una realtà virtuale e la realtà reale chissà quanto è lontana. Però poniamo che noi riusciamo con la nostra mente a connetterci alla realtà reale, facciamo questa ipotesi per assurdo, ovviamente io sono il primo a dirvi che non è che vi dico questo come verità di fede, è soltanto un'ipotesi per ragionare fra noi, fra amici, pensieri in libertà, ok? Non mi prendete per matto, allora, io unisco una serie di cose, quindi unisco le piccole evidenze che si stanno iniziando ad avere nella fisica, con alcune cose molto antiche, addirittura si parte dai veda indiani, che risalgono pare addirittura a 6.000 anni fa, stanno tramandati oralmente e poi scritti poi in epoche un pochettino più recenti, ma comunque molto molto antichi, ovviamente sono i testi sacri più antichi che abbiamo e nascondono per chi li ha letti tante perle di conoscenza, certo c'è tutto il contrario di tutto, e quindi è chiaro che bisogna andare con i piedi di piombo, non è detto che loro avessero chissà quali conoscenze, oppure avevano una vaga idea di conoscenze precedenti di altre generazioni che magari avevano tramandato qualcosa e poi si è perso nelle generazioni, però intanto c'è quest'idea del fatto che noi proveniamo, che noi siamo esseri eterni, che proveniamo da un grande tutto a cui ci dobbiamo connettere e avvicinarci per trovare la via, questa diciamo detta in maniera molto grezza, ci sono alcuni echi di questo, alcuni echi di questo e poi appaiono per magia nel Vangelo di Giovanni, probabilmente chi ha scritto il Vangelo di Giovanni, non è detto che sia stato Giovanni, probabilmente aveva accesso a questo tipo di conoscenze, e tra l'altro se ho ben capito l'inizio, l'incipit del Vangelo di Giovanni sembra preso pari pari da alcuni scritti antichi indiani, in principio era il verbo, e il verbo era Dio, il verbo era preso Dio, cioè da quest'idea di qualcosa da cui tutto deriva, e anche noi, come dice Gesù per difendersi, in maniera curiosa, si difende da chi lo accusa di essersi fatto Dio, e questa è la vera accusa molto grave che viene fatta Gesù, per cui poi è morto, è stato ucciso per questo, e lui viene accusato di essersi fatto Dio, però lui usa un trucco quasi da avvocato per difendersi, vi leggo questo, molto interessante, ovviamente prendete tutto in maniera molto tranquilla, perché non è che quello che è scritto nei Vangeli per forza saranno state le parole di Gesù, non è detto, perché specialmente il Vangelo di Giovanni è stato scritto in maniera molto tarda, probabilmente un secolo dopo, un secolo dopo la nascita di Gesù e forse anche più tardi, quindi, ecco vi leggo, vi ho fatto vedere molte cose buone da parte del pare mio, per quale di esse mi lapidate? Dice Gesù, e i giudei gli risposero, noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia, e perché tu sei uomo e ti fai Dio, questa è l'accusa ovviamente chiave che poi portò Gesù alla condanna, Gesù rispose loro, non è scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei, ora se essa chiama dei, coloro a cui fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto che sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del pare mio non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete almeno alle opere, affinché conosciate e credete al pare mio, è in me e io in lui. Questa sarebbe una strategia difensiva molto efficace di Gesù, che dice, ma è scritto anche nell'Antico Testamento, che chiaramente non può essere annullato, specialmente per i farisei, allora gli dice, Gesù dice, voi siete dei, quindi questa idea che tutti possono prendere parte alla divinità, probabilmente in un momento in cui hanno un ruolo, e quindi tutti, diciamo, secondo questa idea di Gesù, tutti saremo parte del divino, ma in maniera probabilmente letterale, perché così si difende lui, dicendo, se lo siete voi, lo sono anche io, e quindi faccio delle opere divine, questa sarebbe la difesa. Infatti, in quella maniera, lui riuscì poi a sfuggire dalle loro mani, e rimandò la condanna, poi ovviamente dopo lo presero, lo arrestarono, per mano di Giuda. Questa è curiosa, perché Gesù ha detto, praticamente, che ognuno, la divinità, è qualcosa che è di ognuno, quindi questa idea, che parte ovviamente da, parte da credenze lontanissime, che noi esseri umani, non siamo come dice, nell'ultimo cristianesimo, esseri nati all'improvviso, venuti alla luce all'improvviso, nel momento del concepimento, ma secondo questo, noi saremo parte del divino, quindi eterni, divini, e soltanto in questa circostanza, siamo qui sulla terra, ma facciamo parte di altro. E questo, sempre in Vaggione Giovanni, viene detto in maniera, molto più esplicita, e questo è davvero forte, perché dice Gesù, in un testo molto famoso, che poi è stato interpretato, per sminuirlo, perché evidentemente, era pericoloso, dire questo, dice, io sono la vite vera, e il padre mio, è l'agricoltore, ogni tralcio, che in me, non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio, che porta frutto, lo quota, perché porti più frutto, voi siete già puri, a causa della parola, che vi ho annunciato, rimanete in me, io in voi, come il tralcio, non può portare frutto, da se stesso, se non rimane in la vite, così, neanche voi, se non rimanete in me, io sono la vite, e voi i tralci, che rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché, senza di me, non potete fare nulla, come dire, se siete collegati, alla divinità, voi siete dei, se invece voi, vi scollegate alla divinità, vivendo in maniera, terra terra, come dico sempre, in maniera completamente rivolta, alla vita materiale, voi vi scollegate al divino, e quindi, seccate, sostanzialmente, questo è il discorso, ma è esplice, esplice in maniera assoluta, chi non rimane in me, viene gettato via, come il tralcio è secca, poi lo raccolgono, lo gettano il fuoco, e lo bruciano, se rimanete in me, lui si considera ovviamente, più di noi, quindi si considera la fonte del divino, quindi la parte del divino, a cui noi siamo attaccati, e quindi, finché noi siamo attaccati al divino, siamo anche noi dei, quando ci stacchiamo, diventiamo tralci secchi, questo è evidentemente, chiaramente, l'insegnamento, poi è stato da teologi, un pochettino sminuito, perché altrimenti diventava pericoloso, specialmente per un'autorità, che ci vuole esseri mortali, paurosi, che temono la morte, che hanno terrore di morire, quindi il terrore della morte, li porta ad obbedire, e da arricchire, certe gerarchie, e quindi, questo potente messaggio di Gesù, è stato sminuito, poi uno può dire, questo è un testo di Giovanni, un testo, che chissà, questo si è inventato, non l'ha mai detto Gesù, questo, io non lo metto in dubbio, può essere, non è essere, io non sto assolutamente dicendo, che questo è verità, sto dicendo, che qui ci sono delle parole, molto importanti, vedete, continuo a leggere, quindi, se rimanete in me, e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che, voi volete, e vi sarà dato, cioè, essendo collegati, al divino, essendo, dei tragici, riescono a prendere la linfa dal divino, noi possiamo portare frutto, qualunque frutto noi vogliamo, cioè, poi c'è il famoso verso, nel Giovanni, nel Vangelo di Matteo, se avrete fede, pare, un granino di senape, direte a questo monte, spostati, da qui alla, ed esso, si sposterà, e nulla, vi sarà impossibile, anche qui, si ripete, quindi, il Vangelo molto più antico di Matteo, che attinge dalla fonte Q, quindi, un Vangelo, che sicuramente più, diciamo, credibile del Vangelo di Giovanni, anche se il Vangelo di Giovanni, è stato, risentato, assolutamente credibile, però, alcuni dicono, che lavora un po' di fantasia, perché c'è un Gesù mistico, potentissimo, con un sacco di storie, che sono veramente belle, il Vangelo di Giovanni, è un capolavoro letterario, mentre, gli altri tre Vangeli, sono delle serie di detti, di scritti, come, anche il Vangelo di, Tommaso, che è in versi, in una serie di detti, scollegati, che non possono essere considerati, una brillante opera letteraria, mentre il Vangelo di Giovanni, è un capolavoro assoluto, della letteratura, questo è evidente, c'è un altro livello, di capacità, di scrivere, quindi, andando in fondo, da questo discorso, è evidente, quello che dice Gesù, poi, magari, non sarà vero, però, quello che vi dice, è che noi abbiamo questo superpotere, dentro di noi, se siamo connessi, al Divino, noi siamo, in grado di fare qualunque cosa, abbiamo un potere, straordinario, se ci scolleghiamo, siamo perduti, siamo nulla, siamo dei tracci secchi, che finiscono, bruciati, ecco, e quindi, quello che volevo dirvi, è tutto qui, allora, io non sono un grande fotore, di questa idea, della non separazione, cioè l'idea che, nel mondo, noi siamo, ognuno separato, dagli altri, siamo tutti esseri, ovviamente, uno ha la sua individualità, mentre, dal mondo celeste, diciamo, dalla dimensione, da cui proveniamo, e qui magari è solo un, abbiamo degli avatar, e siamo, come, diciamo, siamo qui presenti, ma non siamo, siamo del mondo, ma non in questo, cioè, come si diceva, diceva anche Gesù, io sono nel mondo, ma non sono del mondo, e questo è un altro riferimento, a questa teoria, che non è che ho aumentato io, è una teoria, che viene da lontano, e questo, anche questo, va in ordine a questo, ovviamente, queste cose, sono state molto depotenziate, dalla Chiesa, per ovvi motivi, perché, così, l'uomo sarebbe da solo in grado di, come dice Gesù, vi chiudete nella vostra cameretta, pregate, e otterrete, cioè, la possibilità dell'uomo singolo, di essere in grado, senza nessun tramite, nessuna classe sacerdotale, tramite, di collegarsi al divino, e di essere, esso stesso, in grado, di collegarsi a questa fonte incredibile, non solo di energia, ma anche, proprio di linfa, che porta la vita, e quindi, divenire una, non una divinità, ma essere parte della divinità, e quindi, questo potere straordinario, che noi abbiamo, io vi dico, non è vero, però, provate a, vivere come se fosse vero, allora, magari fate una prova così, perché, io penso che così, vi verranno dei superpoteri, non avrete poteri di guarigione, di fare miracoli, andare a giro a fare miracoli, credo di no, la vedo un po' difficile, però, dal punto di vista psicologico, sarete indistruttibili, cioè, io non mi aspetto, ad esempio, se io, ho una malattia, di guarire, solo riuscendo, con la fede, a dire, ora mi guarisco alla malattia, no, e nemmeno di guarire gli altri, però, dal punto di vista psicologico, mi aspetto invece, di poter, usufruire di questa energia, anche se non fosse vero niente, alla quale attingo questo, e questo è il potere del cervello quantistico, che abbiamo, che lavora con principi di fisica quantistica, e come dicono i fisici, basta e funzioni, quindi, questo potere straordinario, che noi abbiamo, di riuscire a connettersi, mettersi con questa, a questa, diciamo, divinità, a questo centro, a cui siamo collegati, e mentre qui siamo separati, in questa esperienza terrena, mentre noi siamo esseri eterni, e se ci scolleghiamo, siamo perduti, se ci colleghiamo, a questa straordinaria unità totale, assoluta, noi riusciamo a fare, almeno, non dico a fare qualunque cosa, ma almeno, a vivere in maniera, assolutamente diversa la vita, a essere molto più, forti con noi stessi, in grado di superare le difficoltà, e psicologicamente, avere una serenità, che oggi ci viene tolta, da tutto questo, da queste paure, che ci vengono instillate alla società, ecco, prendetela in questo senso, queste paure, che vi vengono instillate, sono nulla, se noi siamo, esseri eterni, esseri collegati, addirittura alla divinità, in grado di poter, attingere, a questa energia straordinaria, a quel punto, siamo indistruttibili, e non temiamo più nulla, e questo, credo che, qualunque potere, lo tema, e ci deve invece, tenere sotto scacco, come, esseri, bisognosi, della loro protezione, scollegati, dal potere divino, ecco, questa è la riflessione, volevo fare, ci tenevo a farla, ditemi, quello che ne pensate, se questa cosa, non ha senso, è assurda, si basa su cose sbagliate, ditemi tutti, ho avuto questa, leggera intuizione, e volevo condividere con voi, questa intuizione, è anche nel mio libro, Le remite e la faggeta, e anche, nelle remite e la pineta, è una cosa, che ho intuito da anni, però, ora, ho, magari, messo più, assieme i pezzi, anche se lì, c'era già, il nocciolo, della questione, che parte dall'esperimento, di bomb, di pesci, nell'acquario, che volevo, provare, a, farvi vedere, in maniera visuale, con un video, in futuro, e, andate a vedere, questo esperimento, e poi, spero di poter, ovvero, firmare, e mostrare, per farvi capire, anche, quello, un'ipotesi, sull'intanguio, nel quantissimo, cioè, che le particelle, divise, che si, che interagiscano, all'istante, violando la luce, da luce, vorrebbero essere, la stessa particella, e quindi, lo spazio, non esistere, e, probabilmente, anche il tempo, quindi, questo dimostrerebbe, che siamo una dimensione, tutta aleatoria, e che, invece, veniamo da una dimensione, molto superiore, e siamo esseri eterni, venuti qui, soltanto, a fare, un'esperienza, una, passeggiata, nel mondo, arrivederci.